In questo video vi lascio le mie 6 ricette preferite del 2023. Partiamo con questa mousse croccante al cioccolato fondente che mi preparo sempre quando mi viene voglia di dolce. È veramente molto molto semplice, basterà andare ad unire tutti i vari ingredienti all'interno di una ciotola e poi aggiungere il cioccolato fuso in superficie. La seconda ricetta è sempre una ricetta dolce e sono questi biscotti che ho preparato per il 31 ottobre, quindi per Halloween, alla zucca. Anche se non è più Halloween comunque dovete assolutamente provarli perché sono di una dolcezza senza senso. Consiglio una quantità pari a 4-5 biscotti per colazione insieme a del latte o un vasetto di yogurt oppure 2 biscotti per merenda. La terza ricetta è quella del pane proteico senza farina. Non so dirvi se è una ricetta dolce e salata perché essendo un pane dovrebbe essere salata, ma dati gli ingredienti si presta benissimo ad essere consumata sia a colazione con della marmellata che a pranzo come fonte di carboidrato. Tra l'altro le fette potete anche congelarle. Passiamo poi ad un'altra ricetta salata al 100%. È una frittata croccante, sono sicura che così non l'avete mai provata. Al posto del cucchiaio d'olio in padella buttate un mix di semi e del grana. Vedrete che è un metodo alternativo per non far attaccare le uova alla padella. E questa ricetta del tortino con cuore morbido in frigitrice d'aria è una chicca che non potevo non darvi. Gli ingredienti sono davvero molto semplici e la ricetta stessa è molto molto semplice da realizzare. Questa è un'ottima idea di merenda. Come avete visto io sono una golosa di dolci, quindi le ricette che trovate qua sono a prova di tutti i golosi. Esattamente come quest'ultima ricetta, una torta vegana con soli due ingredienti. Carote e cioccolato fondente. Allora dimmi, qual è la tua preferita tra tutte quelle che hai appena visto?